La municipalizzata a Ghelas è attualmente sotto regime di proroga tecnica in attesa che si perfezionino gli atti finanziari del comune a garanzia del nuovo contratto già definito. Se il sindaco Lucio Greco pare ormai obbligato a rilanciare le sorti di una maggioranza che soffre anche per i numeri che non ci sono in aula consigliare, allo stesso tempo dovrà fare delle scelte proprio per la società in house. L'amministratore Francesco Tranito ha convocato l'assemblea che dovrà decidere sulle cariche sia quella dello stesso manager che gli incarichi dei componenti del collegio sindacale scadevano con l'approvazione del bilancio, il terzo dall'insediamento, per evitare che trascorrano ulteriori termini con il rischio di lasciare vacanti i ruoli di riferimento della municipalizzata. Tranito, seguendo le norme in materia, ha convocato l'assemblea per il prossimo 5 agosto. La sua conferma non sembra a rischio, nonostante nei mesi scorsi ci siano state delle incertezze manifestate proprio dall'ingegnere, ma che ora sembrano dissipate, soprattutto a seguito della definizione del contratto. A Ghelas guardano praticamente tutte le forze politiche dell'area di maggioranza. Il gruppo che ha sostenuto Tranito sta garantendo pieno appoggio al sindaco e rapporti, tutto sembrano salvo che incrinati. Fino ad oggi l'avvocato greco ha dimostrato di avere piena fiducia in Tranito per il lavoro fatto alla guida di una municipalizzata che tre anni fa si trovò vicina all'ipotesi della messa in liquidazione. Non tutto è risolto, ma un contratto triennale come quello definito di recente potrebbe consentire una programmazione a lungo termine che è anche l'obiettivo manageriale dell'attuale amministratore. Rafforzare la società in house non sembra così facile, visti i vincoli normativi, ma si dovrà iniziare da un ampliamento del personale. I pensionamenti hanno ridotto drasticamente la soglia della forza lavoro. È probabile che qualche opzione in più si potrà mettere in campo per le scelte. Sui tre componenti del collegio sindacale, le decisioni dell'avvocato greco risentiranno dell'area che tira in maggioranza e potrebbero essere un buon viatico per distendere gli animi di qualche alleato. Trenito ha provveduto alla convocazione e sarà greco a formalizzare le scelte.